Quali sono i vantaggi nell'intraprendere l'attività di investitore immobiliare? Il primo è il tempo, non occorre dedicare 8 ore al giorno, ma si possono dedicare anche soltanto alcune ore alla settimana per muovere i primi passi all'interno del mondo degli investimenti immobiliari, quindi si possono prendere gli appuntamenti nelle agenzie, si possono andare a fare le proposte, in questo modo si può mantenere la propria attività e capire se sarà un'attività che veramente ti permetterà di cambiare la tua vita lavorativa. Il secondo sono le persone, non è necessario avere dei dipendenti per svolgere l'attività di investitore immobiliare, questo è un grande vantaggio, è sufficiente avere un team di persone che sono disponibili nel momento in cui si concretizza un'operazione. Il terzo è il guadagno, c'è la possibilità di fare utili molto interessanti anche soltanto con una singola operazione di trading, se poi si opera come persona fisica, quindi magari si fa un'operazione ogni tanto, c'è la possibilità anche di avere una tassazione molto agevolata che è quella del 20% sulla plusvalenza. Naturalmente ci sono molti altri aspetti positivi nel svolgere questa attività che, secondo il mio punto di vista, è il più bel mestiere del mondo.